Associati olivicoltori ben ritrovati al numero 22 del periodico 2 giugno 2023. La fioritura è iniziata, solamente nelle aree più elevate siamo ancora a un allungamento delle infiorescenze e a un viraggio dal verde al bianco, ma vedrete che nel giro di pochi giorni la fioritura entrerà anche in quelli areali. Temperature buone, umidità anche questa mediamente elevata, leggera bressa e tutto sta a favorire una corretta impollinazione. Confidiamo che queste condizioni climatiche si mantengono. Gli olivi sono ben idratati e anche i terreni. La presenza di tignola, ancora poche catture, invece sta aumentando la presenza della cuciniglia mezzo grano di pepe. Quest'anno sembra in alcuni punti di monitoraggio che ci sia anche una maggiore presenza. Foglio botrivo, chi ha utilizzato un'azione di prevenzione andando a lasciare delle fascine dopo la potatura dell'olivo in modo che fungano da esca a questo parassita linicolo, è bene che in settimana le tolga, vada a portarle fuori dall'oliveto e possibilmente, secondo le condizioni ambientali presenti nella zona, vengano anche bruciate, in modo da limitare la fonte di inoculo. Preoccupa sempre la presenza dell'occhio di pavone e sembra che siamo proprio all'interno di una camera umida per questo parassita funginio. Quest'anno particolarmente presente, ma ora che siamo in fioritura vanno sospese qualsiasi azione fitosanitaria a contrasto. Alcuni nostri associati, considerato che abbiamo già ampiamente illustrato la funzione del rame, hanno chiesto di riprendere e approfondire l'argomento, soprattutto per quel che riguarda la sua fitotossicità nei confronti delle foglie dell'olivo. Da dire subito che il rame è un prodotto fitosanitario che non va preso alla leggera, va utilizzato quando è necessario e soprattutto bisogna fare attenzione ai periodi più caldi e più freddi, perché potrebbe portare anche della fitotossicità. Con l'aiuto della nostra lavagna andremo così a vedere e approfondire l'argomento. Il rame è uno dei prodotti fitosanitari più importanti nella farmacopea a contrasto dei parassiti fungini. Ne avevamo già parlato in altre occasioni, soci richiedono di approfondire l'aspetto della fitotossicità nei confronti della cellula vegetale. Il perché in alcuni momenti il rame può essere fitotossico nei confronti delle foglie dell'olivo. Andiamo a vedere il suo meccanismo di azione, in modo da comprendere questa fitotossicità da che cosa è data. Iniziamo nel dire che i prodotti rameici che contengono rame li troviamo nella poltiglia bordolese, nello sicuroluro di rame, nell'idrossido di rame, nel solfato tribasico di rame. La sostanza attiva che contrasta il parassita funginio o batterico è proprio l'ione rame. Questo ione ha la possibilità nel momento in cui è portato sulle foglie o negli apparati vegetali delle piante di entrare all'interno della cellula funginea o batterica. Il suo meccanismo di funzione è questo. La cellula batterica o la cellula funginea è protetta da una membrana che divide, separa l'ambiente interno della cellula con l'ambiente esterno. Normalmente le membrane cellulari fungine sono costituite principalmente da chitina che è un polisaccaride. Le pareti cellulari dei batteri invece hanno come componenti i fosfolipidi più proteine e anche questi hanno un scudo esterno dato da dei polisaccaridi. Il nostro ione rame entra all'interno delle mie cellule, va a unirsi con altri prodotti, però una buona parte si deposita all'interno della cellula funginea stessa e cosa va a provocare? Principalmente va a limitare l'attività di respirazione della cellula. L'attività di respirazione di una cellula è importantissima perché da questa azione la cellula stessa e poi per tutto l'organismo va a crearsi l'energia necessaria per sopravvivere. ossia nel momento in cui la cellula respira si crea, trasforma dagli zuccheri, da eventuali proteine o lipidi presenti l'energia necessaria per moltiplicarsi e per sviluppare anche nuove infezioni. Vale lo stesso per le cellule fungine e vale lo stesso per le cellule batteriche. Altra funzione che svolge l'ione rame negativamente per queste cellule è che va ad alterare le loro membrane. Perciò possono entrare anche eventualmente altre sostanze tossiche alle cellule stesse. Influisce anche nelle attività di moltiplicazione. Perciò con tutte queste azioni le cellule fungine e batteriche a contatto con l'ione rame si intossicano e muoiono. Il rame rimane esterno alla mia pianta e nella foglia, perciò ha una funzione anche di accumulo. Nel periodico abbiamo ben specificato e analizzato tutto questo aspetto. Perché l'ione rame è meno tossico nei confronti della cellula vegetale. Innanzitutto abbiamo una diversità di membrane cellulari. Nella cellula vegetale abbiamo come parete cellulare la cellulosa, l'emicellulosa, delle pectine e abbiamo anche delle proteine. Perciò con molta probabilità, ma non sappiamo ancora bene il meccanismo, l'ione rame entra con più difficoltà all'interno della mia cellula vegetale. Si deposita meno all'interno della mia struttura e perciò crea anche una minore fitotossicità. Dal punto di vista scientifico è stato anche determinato però che questo accumulo di ioni rame non devono superare le 20-25 parti per milione. Dobbiamo così considerare che l'ione rame è sì fitotossico anche per le cellule vegetali, ma in minore misura perché la pianta riesce anche a metabolizzare parte di questi ioni rame. Però bisogna stare attenti che il rame va sempre portato alla pianta con oculatezza e in determinati periodi dell'anno, soprattutto nei periodi più caldi e nei periodi freddi, bisogna avere una massima attenzione perché in questo caso qui il metabolismo delle piante può alle volte non sopperire all'attività fitotossica dell'ione rame stesso. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un buon risentirci alla settimana prossima.